Salve a tutti. Mancano ormai pochi giorni alla data del 15 dicembre a partire dalla quale scatterà l'obbligo vaccinale per il personale della scuola. Tuttavia molti tra docenti e data stanno valutando alcune ipotesi, alcune possibilità per cercare di ritardare quanto più è possibile il momento a partire dal quale dovranno adeguarsi alla nuova normativa introdotta dal decreto legge 172. Con la nota del 7 dicembre scorso il Ministero dell'Istruzione ha dato alcune indicazioni, alcuni chiarimenti, in particolare specificando che non sono soggetti all'obbligo vaccinale tutti quei docenti o comunque quel personale della scuola che è collocato fuori ruolo perché ad esempio è utilizzato in attività lavorativa presso gli uffici centrali o periferici dello stesso Ministero dell'Istruzione o presso altre amministrazioni, oppure il personale che è collocato in aspettativa senza assegni, per esempio per motivi personali o familiari o per esempio per motivi di studio o dottorato di ricerca. In questi casi questo personale non dovrà adeguarsi all'obbligo vaccinale a partire dal 15 dicembre. Ci sono però anche altre ipotesi in presenza delle quali il personale potrà ritardare l'adeguamento all'obbligo vaccinale. Ci riferiamo in particolare anche a casi previsti dallo stesso Ministero, cioè i casi di congedo parentale o congedo per maternità. In questi casi infatti la lavoratrice madre o comunque anche il padre nel caso di congedo parentale durante questo periodo di congedo non sarà soggetto all'obbligo vaccinale naturalmente qualora il periodo di congedo parta prima della data del 15 dicembre. Lo stesso dicasi per i casi in cui il personale si dovesse trovare in permesso o in congedo per altri motivi, si pensi ai casi dei permessi brevi per motivi personali, i permessi per partecipare a concorsi o ad esami, i permessi per matrimonio o i permessi per lutto previsti dal contratto collettivo. Anche in tutti questi casi qualora il permesso dovesse iniziare prima della data del 15 dicembre, l'obbligo di adeguarsi alla nuova normativa in materia di vaccino scatterà dalla data di rientro in servizio effettivo. Lo stesso dicasi per il personale collocato in malattia, quindi assente per malattia, perché in questo caso qualora il periodo di malattia dovesse partire prima della data del 15 dicembre, l'obbligo vaccinale scatterà solo nel momento di rientro effettivo in servizio del personale assente. Quindi in tutte queste ipotesi, così come anche altre previste da leggi speciali, per esempio la legge 104 del 92 che consente al soggetto che assiste un congiunto, un parente disabile grave ad un congedo fino a due anni usufruibili in maniera continuativa frazionata, in tutti questi casi il momento dell'adeguamento all'obbligo vaccinale scatterà solo alla data di effettivo rientro in servizio. Solo da quel momento quindi i dirigenti scolastici potranno verificare se il soggetto sia adeguato meno all'obbligo vaccinale. Arrivederci.